Il gruppo scout del clan del Sulmona 1 ribadisce il no all'insediamento della centrale del metanodotto SNAM, ma sulla rivista nazionale della GESCI promuove la bellezza di Sulmona. L'ultimo capolavoro del gruppo si trova proprio su Camminiamo Insieme, un modo per dire no all'opera della SNAM, ma anche per far riflettere sulle ricchezze di Sulmona. L'ottimo lavoro dei ragazzi e dei capi che li hanno sostenuti è la bellezza di Sulmona, illustrata al meglio in un servizio su ben 20 pagine. In questi giorni sta arrivando su tutto il territorio nazionale, fanno sapere dal gruppo scout a cui la rivista Camminiamo Insieme, pubblicazione dell'associazione Guide Scout Cattolici Italiani, è destinata. Continua quindi, nel migliore dei modi, l'impegno dei ragazzi scout di Sulmona ne portare avanti con coraggio il messaggio per la tutela del nostro territorio, fonte di innata bellezza, favorendone al contempo un'eccezionale promozione, si legge in una nota. Non solo no alla centrale Metanodotto, ma i giovani scout hanno fatto molto di più. In una serie di immagini hanno fatto conoscere Sulmona su territorio nazionale e solo nel mese di dicembre 2016 avevano richiamato l'attenzione sulla pericolosità del progetto SNAM con una lettera spedita all'ex premier Matteo Renzi.